Altro cerchio nel grano, questo qui, 29 luglio 2015, lo vediamo meglio, ne spiego solo un aspetto per non entrare su tutto, allora questo è il cerchio nel grano, abbiamo questo cerchio esterno con quattro cerchi, un cerchio interno con quattro cerchi e poi abbiamo un ulteriore cerchio interno con dentro un fiore di loto, allora i quattro cerchi, il cerchio con quattro cerchi sono i quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco, quindi il simbolo del pianeta terra. Quindi abbiamo il fiore di loto inserito dentro il cerchio che rappresenta il divino, quindi indica un attributo divino e quindi la perfezione, i quattro elementi che come ho detto sono la terra. Nel buddismo il fiore di loto è considerato il simbolo dell'illuminazione e della rigenerazione spirituale. Ovviamente, quindi l'uomo spiritualmente illuminato che si rigenera spiritualmente e quindi la rigenerazione spirituale rigenera anche la società, quindi indica una nuova società di esseri illuminati. Anche per gli egiziani il fiore di loto simboleggiava il sole o comunque la rinascita. I quattro elementi sono rappresentati due volte con la parte esterna e la parte interna, quindi simboleggiano il numero 8, 4 più 4 è 8. L'otto rappresenta i petali del fiore di loto e quindi rafforza il significato del fiore al centro del pittogramma, quindi abbiamo un loto figurato, diciamo graficamente, e un loto schematizzato secondo dei numeri. Ed è considerato anche il numero dell'equilibrio cosmico, dell'infinito, dove c'è solo un continuo ciclo ed è il riflesso dello spirito nel mondo creato. Inoltre indica la legge, il rigore, la regola, sempre secondo il suo aspetto pragmatico in cui rafforza la concretezza simboleggiata dal 4. Otto sono anche le beatitudini, quindi praticamente c'è una rinascita, cioè ci stiamo avvicinando a un momento dove c'è una rinascita spirituale, un rientro nella legge, ma siccome questo rappresenta la Terra, è anche un nuovo mondo. C'è la rigenerazione spirituale e fisica perché questi sono i quattro elementi della Terra. Chiaro il discorso? E lo ritroviamo sia nella Kabbala, quindi la scienza dei numeri, lo ritroviamo nella simbologia esoterico-spirituale delle varie religioni e nell'esoterismo, come abbiamo visto, che la Terra simboleggia i quattro elementi. In realtà anche questo è uno schema della Terra Cava, perché quindi il loto rappresenta l'Eldorado, superficie esterna, superficie interna, quindi l'Eldorado sta sbocciando. Però questo non l'ho inserito poi nel discorso sulla Terra Cava. Il loto ha per gli orientali un forte significato spirituale per via della sua particolarità di affondare le radici nel fango, come ben sappiamo, non nasce nelle acque stagnanti e così via. uscendo da esse immacolato è bellissimo, per questo è il simbolo di chi vive nel mondo senza esserne contaminato, perciò il fiore di lotto rappresenta anche gli eletti, oltre che gli iniziati, che vivono nell'Eldorado, nella Terra Cava. Quindi anche questo cerchio nel grano è un cerchio che preannuncia la rigenerazione del mondo, cioè la rinascita del mondo attraverso la manifestazione, poi se vogliamo proprio metterla nella sua accezione più pura, l'essere illuminato rappresentato dal lotto è Cristo, che sta al centro del tutto.